Trasformazione digitale e politiche attive del lavoro, nuovi modelli e prospettive nel processo integrato di presa in carico delle persone. Questo è il tema dell'evento organizzato nei giorni scorsi da Agenzia del Lavoro in collaborazione con Trentino School of Management al Castello del Buon Consiglio, articolato in un seminario e in una tavola rotonda. La presentazione di tre progetti di ricerca messi a punto in collaborazione con l'Università di Trento e il Politecnico di Torino ha offerto l'occasione per un ragionamento ad ampio spettro su come processi di innovazione e nuove tecnologie possano essere utilizzate per una più efficace presa in carico della persona che intende beneficiare di servizi per la ricerca di lavoro. È un argomento che era stato già affrontato nel corso dei Stati Generali del Lavoro e che viene affrontato dalla pubblica amministrazione trentina con la propria Agenzia del Lavoro cercando di implementare strumenti nuovi e che hanno un'ottica soprattutto giovane, un appeal diverso rispetto agli strumenti passati e che possono e cercano un approccio nuovo. Un incrocio domanda offerta più efficace, la capacità di raccogliere un'utenza diversa da quella che oggi stimola l'Agenzia del Lavoro e questo è il digitale, questo è l'accoglienza che l'utenza giovane, quella digital naturale, quella nata digitale, trova negli strumenti che vengono sviluppati. Tra i progetti da cui si è partiti per analizzare il potenziale innovativo delle tecnologie digitali in relazione ai servizi di ricerca del lavoro offerti all'utenza. Misure di nudging nell'ambito di reinserimento lavorativo e sociale dei beneficiari di reddito di cittadinanza rivolto appunto ai percettori intrentivo. Novelty focus su CPI, incentrato sulla capacità dei centri per l'impiego di generare innovazioni in ambiti come lo smart working, tecnologie digitali e politiche attive del lavoro, concentrato infine sull'analisi dei destinatari finali dei servizi per l'impiego e in particolare sui cosiddetti ready to work, pronti per lavorare. Qui sì davvero le tecnologie digitali mostrano un potenziale di costruzione, di percorsi, di cambiamento particolarmente indicati per la categoria dei cosiddetti ready to work.